Grazie a tutti. Il punto per la coppia è bianco. Arriva il momento di cambiare campo. Sì, 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 ci piace. Sentire le vostre mani, ci piace. Teresa Ferrara, 12-17. Chiara Arcangeli. 13-18. 13-18. Teresa Ferrara, 14-18. Teresa Ferrara, 15-18. Provano a rientrare Ferrara e Bottagini. Chiara Arcangeli, 19-15. Chiara Arcangeli. 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 il momento del nastro cambio di campo attenzione, palla della corona out, 16-20 prima palla match out, ancora il pallone 17-20 18-20 l'applauso del pubblico per la dici arena per questo finale di set e chiudono qui 21-18 e dunque si accidicano con il porteggio di 2-0 la finale Chiara Arcangeli e Serena Albertini la regina 2017 è Chiara Arcangeli la felicità la felicità la felicità una felicità di